Sergio Bolzonello, Vicepresidente della Regione, quali sono le sue parole chiave per il futuro e perché? Due in particolare, partecipazione e comunità. Partecipazione perché i processi partecipativi sono assolutamente necessari oggi in questo mondo così frastagliato, così complicato e quindi la partecipazione diventa uno degli elementi su cui basare momenti di crescita e di coesione comune. Il secondo, comunità, perché questa parola che da troppo tempo non viene più utilizzata, sacrificata sull'altare di altre visioni, deve ritornare centrale. Senza un concetto di comunità, sia essa collettiva, sia economica, sia di welfare, non si possono poi applicare politiche che diventino politiche per il bene comune. Quindi queste sono le mie due parole.